Mi dispiace che abbiamo commesso quell'errore sul passaggio a Rodien e abbiamo perso un rimpallo. Conquistato il rimpallo, persa palla, riconquistata e regalata. Abbiamo avuto un contraccolpo intorno al 24esimo, siamo stati meno incisivi nella capacità di tenere la palla. Poi siamo ritornati in partita e abbiamo fatto la partita come la stavamo facendo fin lì. Sapevo che hanno attaccanti veloci e quindi potevo aspettarmi di tutto. Sono contento della prestazione della squadra e mi dispiace ancora che abbiamo perso una partita su un errore ancora nostro. Ma al di là del primo gol, la squadra è sempre stata in partita, ha reagito benissimo. Gran gol di Benali, straordinario, ci ha rimesso in partita però non puoi prendere il secondo gol come l'abbiamo preso. Sono d'accordo, non puoi creare e avere la padronanza del campo in questa maniera e negli ultimi metri magari sbagliare il passaggio gol o non essere così incisivo come poi del resto magari sembrava fossimo negli ultimi minuti. Devi andarlo a ricercare poi il risultato attraverso una, magari non vorrei parlare di cattivera, però un'incisività, una qualità diversa sotto porta.